Giù in picchiata Quando vengono autunno e inverno ci sono mattine in cui fa caldissimo Poi il pomeriggio un sacco d'acqua e le temperature giù in picchiata Poi di nuovo caldo, freddo caldo e quindi metti, togli, metti, togli Devi sempre avere un giubbotto come per esempio questo morbido piumino pieno di piume d'oca So che un po' ingombrante è, in macchina occupa un po' di spazio e in borsa anche volendo non ci sta Oppure puoi scegliere questo, è il Rayleigh di Save the Duck È impermeabile, ma sarà vero? Allora la maglietta è completamente asciutta L'acqua è scesa ed è scivolata via Se faccio un taglietto qua, in questo piumino classico Vengono fuori delle piume d'oca Con il Save the Duck Viene fuori questo Cioè una specie di ovata che è soffice come una piuma Più leggera Il migliore isolante termico è qui dentro, l'aria Intrappola un sacco d'aria e quindi isola molto termicamente ed è molto traspirante Il Blue Tech è animal free Il vento non passa, creiamo il vento Via Ok Il vento arriva come senti, ma addosso non sento assolutamente niente Quattro gradi e un'umidità incredibile, ma il mio Save the Duck mi protegge alla grande Io e la cerniera non abbiamo ancora preso molta confidenza Ma una volta allacciato ti coccola perché è morbido, è soffice, ti ripara dal vento, dall'acqua, dal freddo L'ho messo da 2 a 16 gradi ed è sempre perfetto In più non ti annoi perché è double fast E infine quando lo vuoi portare con te mettendolo via sta dentro a questa sacchetta Insomma Quando dico insomma me lo lancio Insomma Più alto Insomma Io ci sto un gran bene Lei sta bene Non vuoi starci bene anche tu? Cosa fai? Non ce l'hai? Ok Ok Ok